Ed eccoci qui, finita la partita, Sina 1, Gubbio 2, altro colpaccio in extremis del Gubbio, proprio agli estremi senza quasi nessun titolare, abbiamo fatto un altro miracolo e impresa, a mia modo da rivedere, primo tempo così e così, secondo tempo meglio, anche se occasioni proprio, che abbiamo creato tantissimo sinceramente, però siamo stati cinici e l'abbiamo portato a casa, porca puttana della tosse, ottimo così, altra vittoria, tra l'altro questa è la seconda in trasferta dopo quella di Pistoria, quindi ottima cosa, un po' di continuità finalmente, ottima partita, bella partita anche da vedere, soprattutto nel secondo tempo, un po' di patemi a fine partita, mamma mia, Sina tutta in avanti, però alla fine è modifeso abbastanza bene direi, bene anche il secondo partire, ha fatto un'ottima impressione, a mia modo da vedere, ma il Gubbio sinceramente sui portieri ci ha sempre quasi preso, tranne quell'anno in Serie B con Donnarumma, per carità, siamo perdi, ebbene un po' tutti, forse l'unico che proprio non mi va giù per niente, non c'è niente da fare, sarò che io continui a dire che mi sembra, non sto capisco, un'area di rigore, non serve da niente, in quel modo sinceramente ci gioco anch'io con la panza e tutto, mamma mia, inutile al mondo, direi, uno dei pochi che secondo me ha fatto poco o niente, dalle 5 massimo proprio, sto rivalutando ampiamente Ciofani, per quanti io lo odi in condizionatamente, come cazzo si dice, comunque a prescindere da questo, oggi c'era davvero una marea d'assenze, quindi direi in presuna, il Siena secondo me ha ampi problemi dietro, perché davanti gioca abbastanza bene, ma difensivamente, soprattutto sul secondo gol, ha fatto un bel patatrack togli dietro, infatti non a caso è dietro il Gubbio addirittura, squadra che ha meritato tanti anni anche in Serie A, non ne ricordo, e quindi, secondo me la stagione del Siena è abbastanza fallimentare, pensavo che era molto molto più su in classifica, dovranno lavorare dietro, secondo me, la prossima stagione, e quindi, comunque, ottimo Gubbio, ho visto ottimo secondo tempo, primo tempo un po' Muscio, sinceramente parlando, però al secondo tempo ci siamo letteralmente svegliati, Migliori in campo sicuramente Semmaza è l'amico che è appena entrato, subito decisivo, ottimo, e finalmente cominciamo a sbloccarsi anche in trasferta, cosa non dà poco, seconda vittoria, 43 punti se non sbaglio, bene così, Migliori in campo per loro, Caccavallo, conoscevo bene tanti anni con noi al Gubbio, ottima tecnica, vecchia come il vino, più è vecchio più è buono, anche se secondo me poteva fare molto di più, dico in tutta la carriera secondo me, c'aveva ampia immagine per fare meglio secondo me, però rimane sempre un gran giocatore, tra l'altro c'era anche un altro ex Meli, anche quello forse un po' meno era una riserva alla fine, ex Gubbio, e quindi bene così, ottima impresa direi, e quindi bene così, sono contento, grande partita, grande vittoria, e adesso continuiamo così, se non sbaglio a prossima c'è Rimolese, spero che ritorna qualcuno, così potremmo giocare ancora meglio secondo me, tra i migliori secondo me anche Tazzo, buona partita forse, soprattutto nel secondo tempo, e niente, appuntamento alla prossima, sempre sempre sempre, forza Gubbio, ma basta vedere che ti spegne questa cessa, è senza chiaro, se non ti spegne questa cessa, cons dni però se vuoi sento, bagn bekle questa, dove può dare, ecco la storia non pagata, sui sentire la bath rifornato, cominciamo adesso, Tagliogliari, educavano anche allo striclato, fermo, muss��utare un rimasto, Grazie a tutti.